Zietta, ultima chiamata! Ma no, non a te! Ai piccoli azionisti della Popolare di Vicenza di Veneto Banca che entro martedì 28 marzo dovranno decidere se aderire o meno all'offerta di mini rimborso della banca che dice ti do pochi spiccioli in cambio dei tuoi titoli quindi il dilemma è meglio pochi spiccioli, maledetti e subito oppure magari più soldi un domani grazie alle cause legali ma con il rischio non proprio trascurabile che le banche venete saltino in aria perché non hanno abbastanza soldi per pagare tutti quanti? Esatto zia, è proprio un bel dilemma ma intanto senti, segnatelo un attimo sul calendario di Frate Endovino insomma dove vuoi perché il 28 marzo è anche il giorno in cui all'assemblea dei soci di Carige andrà in scena il doppio scontro della banca che sta litigando un po' con tutti sia con gli ex vertici sia con il fondo Apollo e le sue assicurazioni amissima, amissima esatto che a dispetto del nome pieno d'amore non amano esattamente Carige ecco, i rapporti sono un po' così come dici zia? è vero! ora lo ripeto perché tutti possano sentire questi sono proprio gli sviluppi delle storie bancarie che io e zia ci siamo raccontate nell'ebook io e zia Imma nei labirinti della finanza che trovate su tutte le piattaforme online quindi Amazon, Kindle, Kobo e chi più ne ha più ne metta quindi zia diceva zia, zia dove sei? è andata a ricompare l'ebook è andata a ricompare l'ebook